Ancora un weekend di successo per la casa di Babbo Natale ad Agropoli allestita presso il castello Angioino Aragonese. Sono state oltre 700, 240 nella giornata di sabato 22 e 580 nella giornata di ieri 23 dicembre le persone che hanno visitato la casa partendo dalla fabbrica dei giocattoli passando per l'ufficio postale dove i piccoli hanno imbucato le letterine a Babbo Natale che poi hanno avuto occasione di incontrare in carne ed ossa nell'ultima stanza della casa e fare una foto con lui. Circa 300 i bambini che hanno preso parte al Natale Gentile, piccoli elfi in giro per il centro cittadino, a completare il loro passaporto tra un laboratorio creativo ed una visita tra i negozi della città fino ad arrivare alla capolinea presso il castello Incantato per essere proclamati Elfi del Natale Gentile. E oggi 24 dicembre l'avventura prosegue ad Agropoli. Il Natale Gentile sarà operativo dalle ore 10, 13, 17, 20 e 30 e la casa di Babbo Natale sarà aperta dalle ore 10, 13, 17 e 22 di questa sera.